Dopo la prima presentazione avvenuta all'interno dell'ultima edizione del Letterando in Fest, è un nuovo ed interessante momento quello di questa sera dalle ore 20 nell'atrio superiore del comune di Sciacca con una rinnovata presentazione della Pescatrice Araba, il romanzo di debutto del giornalista Massimo D'Antoni, presidente del CDA di Telemonte Cronio. Pubblicato dalla Gianmarco Aulino Editore, il libro ha riscosso fino ad oggi molta attenzione, fatto che dal punto di vista dell'autore è un segno di stima professionale e di attenzione della popolazione nei confronti della nostra emittente. Dopo la precedente conversazione del 15 giugno scorso con il procuratore della Repubblica di Gela, Salvatore Vella, all'interno dell'evento letterario organizzato da Sino Caracappa a conversare con Massimo, stasera sarà il critico d'arte Tanino Bonifacio. L'evento odierno è stato voluto dall'assessore comunale alla cultura Salvatore Mannino, mentre alcuni frammenti del libro saranno letti e recitati da Raimondo Moncada. Il romanzo parla di una donna, Ines, mamma di due gemelline, che non esita a sfidare convenzioni e concezioni patriarcali nella realtà sociale dei primi anni 70, pur di affermare la sua dignità, chiedendo di essere assunta come marinaia sul peschereccio dove è morto il marito. Ne scaturisce un racconto anche un po' misterioso, che negli intenti dell'autore contiene anche una visione civica ed un messaggio sociale.